Nel 2020 ricorre un anniversario molto importante sono 50 anni esatti dall'approvazione dello statuto dei lavoratori con la legge numero 300 del 1970 si disse all'epoca che con questa legge la costituzione entrava nelle fabbriche perché quella legge che tuttora è in vigore aveva l'intenzione espressa di attuare i principi costituzionali in materia di lavoro se l'articolo 1 della nostra costituzione afferma che l'italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro occorreva dare al lavoro regole democratiche per consentire al singolo il lavoratore la parte debole del rapporto tutele sia nel rapporto individuale col datore sia nelle formazioni collettive destinate a rappresentarla appunto rappresentate costituite dai sindacati in 50 anni sono cambiate tante cose e tante cose sono cambiate soprattutto nel mondo del lavoro oggi le imprese di maggiore successo non sono quelle che producono bene ma quelle che gestiscono servizi raccolgono dati pensateci noi adesso siamo abituati a compiere gesti prima completamente sconosciuti alla nostra vita quotidiana per esempio ordinare una pizza al telefono fare i regali di natale su internet e ci sembra abbiamo la parvenza che tutto questo dipenda da una immaterialità di servizi di attività che non implica più il lavoro umano che cosa c'è dietro quella pizza che ci viene recapitata a casa c'è la figura del cosiddetto rider questo è un tipo di organizzazione che il lavoro l'occulta ma di cui ha completamente pienamente bisogno e purtroppo dietro a questo occultamento si nascondono realtà vive concrete fatte di sfruttamento e di sottovalutazione il lavoro cambia ma non cambia affatto la necessità di tutele e di garanzie una retribuzione adeguata il diritto alle ferie il diritto ai reposi il diritto ad un'assicurazione contro gli infortuni e l'incidente sul lavoro tutto questo evidentemente implica uno sforzo di ammodernamento e di proiezione verso un futuro che non sarà più fatto della figura tradizionale del luogo tradizionale della fabbrica e nemmeno se vogliamo del datore di lavoro visto che in molti casi chi amministra i rapporti è la cosiddetta piattaforma e l'algoritmo la sfida è quella appunto di adattare le vecchie tutele alle nuove forme di lavoro la corte di cassazione ha affermato un principio nuovo in assoluto per cui al fattorino in bicicletta al rider occorre riconoscere le stesse tutele che spettano a un lavoratore subordinato la corte costituzionale nel 2018 ha dichiarato in costituzionale il jobs act proprio nella parte in cui non garantiva al lavoratore licenziato illegittimamente quindi contro la legge una tutela in grado di riparare almeno in parte il danno da lui subito ma soprattutto da risultare dissuasiva nei confronti del datore di lavoro che avesse violato le leggi gli esami per il jobs act non sono finiti qui perché pendono altre questioni sia davanti alla corte costituzionale ancora ma anche di fronte alla corte di giustizia per l'unione europea non soltanto, di recente è stata sanzionata l'illegittimità del jobs act anche dal comitato europeo per i diritti sociali è un'illusione che il mercato trovi da solo un equilibrio virtuoso che riesca a garantire il libero sviluppo dell'imprenditoria e al tempo stesso la protezione sociale delle parti più deboli questo la storia ce l'insegna c'è ancora bisogno di un diritto del lavoro c'è anche bisogno di un giudice del lavoro che queste regole le faccia rispettare regole rigide e insormontabili da parte del privato che garantiscano in questo modo l'attuazione dei principi costituzionali e sovranazionali che garantiscano in questo modo l'attuazione dei principi costituzionali e sovranazionali